Saludato Gesù e Maria, Gesù ci dice nell'Evangelio che il premio è promesso non a chi incomincia appena, né a chi ha continuato per un certo tempo, ma a chi vi persevera sino alla fine. Quindi chi ha incominciato cerca di perseverare e sembra meglio, chi ha proseguito cerca di giungere alla fine e chi non ha incominciato disgraziatamente si metta sulla buona strada e sforziamoci di perseverare. Lo so che è un compito abbastanza difficile, però l'esempio dei Santi, l'aiuto della Vergine Santissima, la grazia di Dio che è sempre pronta a chi la chiede, non ci mancherà. Perciò vestiamoci di costanza, di pazienza e di perseveranza. E allora si verificherà quello che Gesù stesso ci dice nell'Evangelio, chi vuole separarsi nella fine, questi che so. auguro a tutti la buonanotte, piena di grazie e di benedizioni. E' una benedizione piena piena, non soltanto a voi, ma a tutti coloro che vi stanno a cuore, specialmente alle vostre famiglie, alle persone a voi cari, ma in modo speciale. i poveri infermi ed i soffretti. Che il Signore invonda loro coraggio e perseveranza e dia loro salute. In nome del Padre, del Figliolo e del Spirito Santo e Costesia, si è rodato Gesù e Maria, oggi e sempre. Grazie.